Lazio, confermata la lesione, salterà Clui e Salernitana. Roma le condizioni di Alessio Romagnoli, uscito nel finale del primo tempo di Lazio-Atalanta. Continuano ad impensierire i tifosi bianco-celesti, gli esami strumentali cui il difensore si è sottoposto in giornata. Infatti, hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del bicipite della coscia sinistra. Come riportato dal sito ufficiale della Lazio, tempi di recupero tutti da valutare nei prossimi giorni saranno ripetuti ulteriori esami per valutare i tempi di recupero, Romagnoli ha già iniziato le cure e verrà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico. Ma salterà sicuramente la sfida di Conference League con Clui di giovedì e la trasferta di campionato con la Salernitana in programma domenica.